e benvenuti a una nuova lezione di italiano per tutti questa è la lezione dedicata alla ricetta e come vedete dal titolo abbiamo una ricetta molto famosa al mondo perché trattasi della ricetta degli spaghetti alla carbonara come sapete e ve lo dico subito in questo caso sono molto famosi gli spaghetti alla carbonara ma questa ricetta che è un semplicemente un modo di cucinare la pasta ovviamente può essere associata a qualsiasi altro tipo di pasta e quindi inventate e create seguendo però delle delle soluzioni e degli ingredienti e dei trattamenti come la ricetta spiega abbastanza precisi perché così verrà veramente quella con il gusto alla carbonara allora come in tutte le lezioni vi leggo la prima slide che dice che il modo anzi un modo molto gradevole per imparare la lingua e la cultura italiana è conoscere le ricette e i piatti tradizionali dell'italia oggi vedremo come si prepara uno dei piatti più conosciuti al mondo la pasta alla carbonara e in questo caso gli spaghetti si tratta di una ricetta molto saporita ma anche molto semplice da preparare la ricetta originale prevede la carne di maiale e le uova ma chi non gradisce questi alimenti per chi non gradisce questi alimenti esistono delle gustose alternative allora pronti e vediamo quali sono gli ingredienti della pasta alla carbonara per quattro persone 300 400 grammi di spaghetti beh poi se volete mangiarne di più come faccio io potete abbondare però la le misure diciamo di tutti gli altri ingredienti sono dosate su questi 350 400 grammi 150 grammi di guanciale tagliato a dadini il guanciale è la carne della guancia del maiale quindi solo per spiegarvi da dove deriva il termine guanciale se non lo trovate potete sostituirlo con la pancetta che è sempre di maiale ma proviene dalla pancia del maiale due tuorli d'uovo 30 grammi di pecorino romano grattugiato 30 grammi di parmigiano reggiano grattugiato pepe nero olio di oliva e sale avete acquistato tutti questi prodotti se no fermatevi qui e andate a comprare il supermercato altrimenti seguitemi per incominciare insieme la ricetta ovviamente poi vela vela cucinerete poco per volta allora la preparazione ci dice che per cominciare bisogna mettere sul fuoco una pentola d'acqua per cuocere la pasta quindi si inizia già con la cottura della pasta perché nel contempo noi prepariamo il il vero sugo diciamo della 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 carbonara mentre aspettate che l'acqua giunga a bollore quindi che l'acqua vada a bollire nella nella pentola che abbiamo preparato d'acqua dedicatevi alla preparazione del condimento versate in una ciotola i due tuorli d'uovo e aggiungete i due formaggi grattugiati usando una frusta sbattete bene il composto fino a quando gli ingredienti non si sono bene amalgamati faccio notare che i tuorli d'uovo sono quelli che vedete qui in foto cioè è dell'uovo solo la parte gialla la parte rossa la parte arancione e la parte bianca l'albume non è in questo caso è da scartare andate a cercare su youtube qual è il modo per dividere il bianco dal giallo alla fine aggiungete del pepe nero macinato quindi avete versato i due tuorli e aggiunto i formaggi avete usato una frusta e quindi dovete andare a vedere quali sono gli oggetti della della cucina italiana dell'italiano in cucina più che altro e quindi con la frusta sbattete il composto alla fine quando sono amalgamati aggiungete il pepe macinato versate ora il guanciale in una padella quindi questi dadini con poco olio sono da mettere in padella o anche senza se la padella è antiderente l'olio serve solo per non far attaccare il guanciale al fondo della padella fatelo scaldare per circa dieci minuti sul fuoco basso fino a quando non sia cotto leggermente croccante quando l'acqua bolle aggiungete il sale e mettete a cuocere gli spaghetti quindi diciamo che il lavoro della pasta è sempre lo stesso cuocere la pasta quando gli spaghetti sono pronti scolateli senza che ci asciughino troppo quindi bisogna lasciarli un po morbidi un po bagnati e poi mettetevi di nuovo nella stessa pentola che avete usato per la cottura quindi li rimettete nella stessa pentola ovviamente vuota perché li avete scolati e unite agli spaghetti un cucchiaio di olio di oliva in questo caso l'olio ci vuole e anche aggiungete il guanciale e mescolate bene quindi spaghetti olio guanciale oppure pancetta ad adini nello stesso modo se non avete trovato il guanciale iniziate mescolare infine versate il composto di uova e formaggi e mescolate questa è forse la parte più delicata della ricetta al contatto con la pasta ben calda ancora l'uovo deve rapprendersi quindi diciamo indurirsi quasi un po leggermente e un po ma non troppo infatti c'è scritto rimanendo morbido quindi deve ammorbidirsi l'uovo e agganciarsi intorno attaccarsi diciamo intorno alla pasta era prendersi un po gli spaghetti adesso sono pronti quindi lasciate un pochino amalgamare l'uovo sulla pasta e rapprendersi avete aggiunto il guanciale prima avete mescolato bene in questo momento i 350 400 grammi di pasta sono pronti per essere serviti ovviamente come tutte le ricette come tutte le cose nella vita bisogna farci un po di mano un po di pratica che sicuramente dopo tre o quattro volte quattro cinque volte riusciranno sicuramente meglio e in giallo colorato in giallo e colorato in arancione in verde scusate in verde e in giallo abbiamo gli altri due modi e cioè a chi non gradisce la carne di maiale o chi non gradisce la carne soprattutto suggeriamo una delle alternative vegetariane più celebri la carbonara di zucchine la preparazione la stessa basta sostituire al guanciale due zucchine di media grandezza tagliate a dadini quindi il risultato è lo stesso e poi fate rosolare quindi nello stesso modo voi mettete invece di mettere la carne mettete le zucchine nella padella con un po d'olio se non antiaderente e la lasciate rosolare e poi li aggiungete come avete fatto con la carne prima del dell'uovo e dei formaggi chi invece non gradisce l'uovo può sostituirlo con un formaggio fresco e morbido come la ricotta o il fior di latte da mescolare i formaggi quindi un formaggio che hai messi mescola i formaggi però comunque il gusto si arricchisce da mescolare i formaggi grattugiati e al pepe e da unire poi alla pasta subito prima di servire quindi questo invece è il modo di evitare di aggiungere l'uovo ovviamente potete mettere le zucchine se non volete la carne e mettere il formaggio fresco se non volete l'uovo e la ricetta è un po diversa però comunque è sempre chiamata carbonara ed è sicuramente mangiabile sicuramente buona quindi vi consiglio di provare a sbizzarrirvi si dice così in questo modo in italiano cioè di arricchire le vostre la vostra capacità e curiosità nella cucina in tutti gli svariati modi che vi ho appena descritto bene ricetta fatta ricetta pronta piatto cucinato tra poco vado a cena e quindi anche per questa lezione vi saluto vi ringrazio come sempre il mio pollice alzato vi dice fatemi un like grazie o seguitemi sul canale youtube siamo sempre su facebook su twitter e su youtube e soprattutto sul blog che è ita per tutti punto blog spot punto com vi ringrazio perché ultimamente ricevo una quantità di messaggi e faccio abbastanza fatica a rispondere a tutti ma ci vediamo sicuramente con delle novità e con nuove lezioni di italiano per tutti ciao a tutti con italiani ciao ciao